Ballare è come volare, un'emozione più forte di qualsiasi difficoltà, una passione che ha permesso a Virginia Di Carlo di realizzare il suo sogno e di avere una scuola di danza tutta sua. Virginia è una ragazza di 26 anni, affetta fin dalla nascita da tetraparesi spastica con una volontà di ferro e una determinazione senza pari che le hanno permesso non solo di convivere con la malattia ma di andare oltre i limiti e le difficoltà e diventare maestra di ballo e atleta paralimpica e di inaugurare nella sua durento insieme alla sorella Martina, campionessa italiana di danza latine, la Dance School Special Angels. Finalmente oggi abbiamo la scuola e io e mia sorella, cosa si è un'emozione bellissima e siamo veramente contente che questo sogno si sia realizzato. Un progetto, quello della Special Angels, che parte dalla rete, da un crowdfunding e che d'ora in avanti insegnerà a tutti i ragazzi a danzare, anche a quelli che mai avrebbero pensato di poterlo fare. Quattro, cinque anni fa mi è arrivata questa lettera di Virginia, l'ho chiamata, ci siamo incontrati, è venuta a trovarmi a Roma, l'ho rivista in Piemonte più di una volta e oggi questo sogno si realizza. È chiaro che da adesso comincia il difficile, il molto difficile. A livello personale per me era importante esserci, vediamo se poi qualche cosa posso fare fuori da quello che sono ovviamente gli aspetti istituzionali perché credo che tutto questo se lo meritino. La scuola è per Virginia un nuovo traguardo ma non certo l'ultimo, d'ora in avanti sarà lei, come ha annunciato al taglio del nastro il Presidente della Regione Alberto Cirio, la testimonial di tutte le iniziative di Sport Ability in Piemonte per raccontare che lo sport dà a tutti la possibilità di ritagliarsi un proprio ruolo nella società. A cento giorni dall'insediamento di questo Governo regionale c'è stata la volontà di dare un'attenzione particolare a chi ha difficoltà, soprattutto i disabili che hanno difficoltà, hanno necessità di essere riconosciuti e il Consiglio regionale ha voluto essere vicino a questa inaugurazione di questa bellissima realtà gruentina.